grazie pace del signore buona serata a tutti vai tranquillo lasciati guidare dallo spirito santo molto bene grazie veramente scusate c'era un'interruzione nell'audio allora bene questa sera abbiamo ascoltato abbastanza tante cose dai fratelli che mi hanno preceduto e io voglio continuare un po sul discorso del natale è meglio riprendere un po il discorso del natale però guardando a questa questa tematica del natale da un'altra ottica ho dato un tema a questo mio intervento cioè nulla può stacolare i piani di dio per noi perché il natale riferiamo ci riferiamo a quello che è successo con la venuta di gesù cristo dio aveva un piano ben preciso per l'umanità e aveva un piano ben preciso per il suo figlio gesù cristo sulla croce a morire sulla croce ma l'ha mandato sulla terra per diventare uomo per incontrare l'umanità essere caricato dei peccati dell'umanità queste cose le sappiamo le abbiamo ascoltate anche dai fratelli che ci hanno preceduto ma il punto è che c'era un piano ben preciso di dio dio aveva un piano un progetto di salvezza che implicava l'invio di suo figlio la nascita di suo figlio qui sulla terra come essere umano e voi sapete molto bene che è stato fatto di tutto per impedire che dio potesse portare a compimento il suo piano voi conoscete la storia della dell'uccisione dei primogeniti dell'uccisione dei bambini durante il regno di erode c'era poi il governo romano che opprimeva israele tutto faceva pensare che nulla di buono poteva succedere ma quando dio ha deciso come dice l'appostolo paolo al tempo di dio quando lui ha stabilito che il suo figliolo doveva venire nulla ha potuto ostacolare questo suo progetto perché i piani di dio non possono essere ostacolati da nessun problema da nessun ostacolo da nessun attacco da nessuna difficoltà ebbene avendo a mente questo questo discorso che i piani di dio non possono essere ostacolati possiamo ora leggere un brano che leggiamo in romani capitolo 8 dal verso 28 romani 8 28 che dice ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno allora andiamo ad analizzare un po questa frase tutto coopera al bene o per il bene di quelli che amano dio e che sono stati chiamati secondo il suo proponimento nessuno può amare dio se l'amore di dio non è prima inserito dice l'apostolo paolo versato nei cuori dell'uomo da dio stesso quindi in pratica quando dice coloro che tutte le cose copre bene per coloro che sono chiamati secondo il suo disegno cioè coloro che amano dio sta parlando di persone che prima di tutto hanno conosciuto l'amore di dio io posso amare dio perché prima conosco dio che mi ama conosco l'amore di dio proprio gesù cristo gesù di cui si parla in questa giornata di natale questo gesù che è venuto ha introdotto sulla terra l'amore di dio giovanni capitolo 3 verso 16 dice e dio tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna allora dio ci ha amati per prima ha mandato il suo figliolo e l'avvento del suo figliolo sulla faccia della terra ha permesso all'amore di dio di raggiungere i cuori delle persone che credono in lui allora queste persone che amano dio perché sanno di essere stati amati da dio perché hanno conosciuto l'amore di dio avendo accettato il sacrificio che cristo ha compiuto sulla croce dico questo tipo di persone possono star sicuri che per loro tutte le cose cooperano per il loro bene se andiamo a vedere nella storia della natività vediamo che tutti gli elementi e tutte le storie e che girano attorno alla storia della natività sono stati tutti concorrenti hanno concorso ad aiutare a far sì che i piani di dio si compissero qui sulla terra perfino la i re magi che sono venuti a conoscere il cristo i pescari come dire i pastori che hanno ricevuto l'annuncio dalla dall'angelo del signore e tutte queste persone tutti questi eventi hanno concorso a far sì che gesù venisse sulla faccia della terra a far sì che gesù potesse essere ricevuto conosciuto crescere come bambino nella famiglia di giuseppe e di maria per poi compiere il suo mandato nessun evento ha potuto impedire a gesù di compiere il piano per il quale era stato mandato perché le cose che dio decide si realizzeranno nonostante gli impedimenti nonostante gli ostacoli che si intrapongono tra i suoi piani e l'adempimento di quei piani stessi allo stesso modo noi possiamo credere possiamo aver fiducia che tutte le cose cooperano per il nostro bene perché perché amiamo dio in quanto abbiamo conosciuto il suo amore siamo stati chiamati secondo il suo disegno ben preciso e l'apostolo paolo poi va avanti nel discorso e nei versi successivi parla con chiarezza del fatto che nel verso 37 dice che ecco qua scusate nel verso 32 colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non donerà forse anche tutte le cose con lui allora se il signore ha compiuto i suoi piani mandando il suo figlio gesù cristo a morire sulla croce non risparmiandolo affatto ma lo ha lasciato morire per noi tutti quindi i suoi piani si sono compiuti in cristo nonostante gli ostacoli che questi piani hanno incontrato colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi non ci donerà forse anche tutte le cose con lui in altre parole non sarà lo stesso che compierà tutti i piani che lui ha per noi nonostante gli ostacoli e gli attacchi che vengono contro questi piani oggi si parla tanto del covid si parla tanto del futuro incerto e sono assolutamente d'accordo col fatto che il futuro è incerto ma il cristiano deve avere una certezza assoluta che colui che ha dato gesù cristo suo figlio a morire sulla croce ha compiuto i suoi piani che aveva già ideato prima della fondazione del mondo dico lo stesso dio che ha fatto questo è colui che compierà ogni piano per le nostre vite e non ci saranno pestilenze non ci sarà covid non ci saranno situazioni politiche non ci saranno situazioni economico finanziarie non ci saranno situazioni avverse che potranno impedire ai piani di dio di realizzarsi nella nostra vita anzi tutte le cose coopereranno per il nostro bene per l'adempimento di quei piani che dio ha ideato per noi fin dalla fondazione del mondo e l'apostolo paolo andando avanti con questo brano ai romani capitolo 8 nel verso 37 dice ma in tutte queste cose le cose che appunto possono essere di ostacolo ai piani di dio per la nostra vita in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati alleluia gloria al signore allora vedete si parlava prima di di coloro che amano dio e qui si parla di chi ci ha amati noi amiamo dio perché siamo stati amati da dio ebbene colui che ci ha amati cosa farà egli in virtù del suo amore siamo persuasi che egli farà in modo che nessuno potrà separarci da te da questo amore infatti dice sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezze né profondità né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di dio che è in cristo gesù nostro signore proprio questo amore di dio col quale gli ci ha amati che poi è stato versato nei nostri cuori e ci permette a nostra volta di amare dio dico questo amore è imprescindibile e non può essere compromesso da nessuna realtà della vita presente l'apostolo paolo non a caso parla di cose presenti di cose future di autorità di angeli principati e di potenze addirittura neanche la morte può separarci dall'amore di dio semplicemente perché l'amore di dio e dio stesse perché dio è amore dio non ha amore dio è amore e dio è eterno e quindi il suo amore è eterno ecco perché le cose presenti le cose future ci potranno separare dall'amore di dio allora i piani che dio ha per noi non potranno essere compromessi dalle situazioni che noi incontriamo perché l'amore di dio e dio stesso sono eterni l'amore di dio che ha fatto le promesse l'amore di dio che ci ha chiamati che ci ha già predestinati a raggiungere gli obiettivi che egli ha per noi dico questo amore non potrà mai essere vinto dalle cose temporanei presenti future potenti per quanto grandi e potenti possano essere non sono comparabili con la potenza di dio e con la potenza del suo amore allora siamo qui per concludere un anno non è stato certamente un anno facile negli ultimi due anni a dire il vero le cose non sono state semplici e quindi andando a guardare a ciò che ci aspetta non andiamo con preoccupazione con ansia come se siamo destinati ad incertezza dio non ha nessuna incertezza il suo amore per noi resta invariato egli ha potuto fare sì che i piani per il suo figuolo Gesù Cristo andassero a compimento nonostante tutti i tentativi del nemico di ostacolarli quei piani voi sapete che Gesù doveva morire sulla croce e doveva morire per l'umanità e sacrificarsi per l'umanità satana ha cercato di allontanarlo da questo destino cercando di ucciderlo attraverso erode quando era bambino appena nato quando era un infante ha cercato di ucciderlo nel corso della sua vita terrena prima del compimento dei piani che signori aveva stato aveva fissato per lui ma non non ha potuto farlo perché dio è più grande del nemico noi serviamo un dio che è straordinariamente grande noi sappiamo che questo dio ha dei piani per noi si sta parlando di persone che sono chiamati secondo il suo disegno persone sulle cui vite c'è il piano di dio sì sono loro che amano il dio ma dio li ha amati a tal punto che ha stabilito e ha ideato un disegno per le loro vite per le loro esistenze ebbene per questo tipo di persone tutte le cose cooperano per il bene e per il raggiungimento degli obiettivi che il signore aveva stabilito l'apostolo paolo sa di cosa sta parlando perché lui sapeva molto bene per esempio che era chiamato da dio ad andare a roma a predicare la parola di dio fino alla corte del re di roma dell'imperatore di roma e lui sapeva molto bene che dio l'aveva chiamato a questo e perfino la sua incarcerazione sarebbe stato uno strumento per raggiungere l'obiettivo di dio per la vita di paolo e quando stava in viaggio verso roma e si trovava sulla nave che ha naufragato apparentemente sembrava che i piani di dio fossero svaniti per paolo come fai paolo ad arrivare a roma se tu muori naufrago ma un angelo gli parlò e gli ha ricordato che era stato chiamato ad andare a roma a predicare la parola di dio per cui quel naufragio non poteva essere mortale per lui c'era una chiamata un progetto di dio sulla sua vita nessuno poteva fermare il progetto del signore per la vita di paolo e lo stesso paolo poi non si è lasciato intimidire e bloccare sull'isola di malta dove anzi ha colto l'occasione per parlare di dio alle persone che ha trovato lì a malta e perfino il naufragio a malta ha cooperato per il bene dei progetti di dio per la vita di paolo e per l'avanzamento del vangelo lo stesso si può dire di qualche tempo prima quando lui si trovava in prigione a filippi dove era andato per una visione ricevuta dal signore per una chiamata ricevuta dal signore per un compito che gli era stato affidato dal signore e sembrava che tutto quello che lui aveva capito che dio volesse per la sua vita fosse svanito perché è andato a finire in carcere ed è stato imprigionato ma proprio lì in carcere ha incontrato la persona per la quale il signore l'aveva mandato a filippi perché il carceriere era la persona che lui aveva visto in visione o in sogno quando il signore gli ha mostrato questo macedone che diceva vieni a soccorrerci allora vedete che i piani di dio per la vita di paolo non sono stati interrotti dagli ostacoli che paolo ha incontrato ecco perché lui poteva dire con certezza tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento questa sera se noi amiamo dio se la nostra vita è dedicata a dio abbiamo dedicato il nostro la nostra esistenza al signore i piani che dio per noi si compieranno attenzione non stiamo incoraggiando i nostri ascoltatori ad essere fatalisti non ti preoccupare perché tanto morirai quando dovrai morire non prenderti cura della tua salute non mettere la mascherina non fare nulla per proteggerti tanto se dio ti ha chiamato ti proteggerà non sto dicendo questo assolutamente dio ci ha affidato la nostra salute e ce la date in gestione noi dobbiamo prendercene cura dobbiamo badare la nostra salute ma ciò che sto dicendo ciò che sto dicendo stasera è la storia di natale è tutto quello che gesù ha fatto ci insegnano che i piani di dio non vengono interrotti dai piani del nemico se noi ci affidiamo a dio e ci lasciamo guidare dal signore l'amore di dio è ciò che durerà sempre nella nostra vita nessuno potrà separarci dall'amore del signore e quando arriverà il nostro tempo di andarcene perché moriremo prima o poi tutti moriremo quando noi ce ne andremo col signore allora neanche la morte potrà interrompere i piani del signore perché perfino la morte e lo dico anche a per incoraggiare chi ha perso delle persone care perfino la morte è semplicemente un passaggio da uno stato ad un altro stato ma sempre alla presenza di dio che ci ama anzi in una dimensione straordinaria della manifestazione dell'amore di dio e la dimensione del cielo quindi tornando a noi adesso vogliamo pregare il signore se tu non hai ancora conosciuto gesù come personale salvatore il signore o se l'hai fatto ma hai perso la tua freschezza nel tuo cammino col signore hai perso la tua visione la tua speranza io stasera voglio incoraggiarti mentre preghiamo insieme il signore a dire signore io ti amo con tutto il cuore signore manifestati di nuovo nella mia vita o manifestati per la prima volta nella mia vita accetto il sacrificio di quel gesù che duemila anni fa si è vero è nato e si vogliamo anche ricordarlo oggi perché non è nato certo il 25 di dicembre ma gesù io voglio accettare quel sacrificio e se l'ho già fatto nel passato voglio rinnovare la mia dedizione il mio amore per te voglio dirti signore io ti amo mostrami il tuo amore e verse il tuo amore attraverso lo spirito santo nel mio cuore dammi la capacità di amarti e mentre io ti amo sapendo che sono stato chiamato secondo un progetto e un piano ben preciso da te io so che tutte le cose coopereranno per il mio bene padre io prego per coloro che mi stanno ascoltando che hanno ripetuto con me questa semplice preghiera io so signore che tu li puoi raggiungere ora proprio ora lì dove si trovano sì signore è che il giorno di natale 2021 possa essere un giorno memorabile un giorno nel quale hanno sperimentato o hanno sperimentato di nuovo l'amore di dio e la realizzazione dei piani di dio per la loro vita signore preghiamo per coloro che hanno malattie difficoltà situazioni impossibili possono avere speranza in te la tua parola ci ha appena detto che nessuna cosa può separarci dal tuo amore signore interviene con il tuo amore proprio ora o tocca signore i corpi malati tocca signore le menti scoraggiati i cuori scoraggiati tocca signore le persone disorientate che non sanno cosa fare dove andare perché la tua parola dice che neanche questo può separarci dal tuo amore te lo chiediamo nel nome di gesù amè 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 amè